Occhio! Un medico nemico! Ehi! Vedo una sabatona! Un medico! Un medico! Un medico! Un medico! Un medico! Assaltatore! Teniamolo d'occhio! Raggiù! Un assaltatore nemico! Visto! È un medico nemico! Assaltatore nemico! Facciamo attenzione! Assaltatore! Sì, là! Sì, là! Sì, là! Vedo un aereo! Sì, là! 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 Mitragliatrice nemica localizzata! Sì, là! 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 Sì, là!